Ma Zan è quello di Alien vs Predator, zio? Solo perché è nero? Madonna, che razzismo però, raga. Qual è l'Alien? Non l'Alien, è proprio il Predator. Ma è solo perché è nero? Ma no, per la maschera, zio, per i cosi dietro. Ma era un robot Predator, cioè nel senso non aveva la fatti una sembianza umana. No, ma vabbè, basta. Porco. No, 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 vabbè, sono un Predator, sono un Predator, sono un Predator, Gabbo. Secondo me è veramente uguale a Predator, Gabbo. È tornata la squadra più forte d'Europa. Dredd, Zano, Ron, Gabbo, oggi umilieranno altri avversari. Prima di iniziare lasciatemi un like e un commento, arriviamo a 5.000 like. Se settimana prossima volete un altro episodio di Rush, nei commenti scrivetemi a sdrubale. Prima di iniziare però vi devo costringere a fare una cosa. In descrizione c'è il link del video che è uscito sul mio primo canale. Cliccate e andate a vederlo, l'avete già visto, non mi interessa. Cliccate e lasciatelo lì, lasciatelo andare. Vorrei che quel video arrivasse a 10.000 like. Ne mancano ancora un po', ma so che voi ce la potete fare. Lo spammerò per l'intera settimana, fin quando non ci arriverà. Quindi meglio per voi che lo fate il prima possibile. Dai, fatelo, vi prego. Buon video. One direction, ah no. No, basta questa cosa di one direction. No. E ho, la prima è la tua. Come si gioca? Regà. E ho. No, che è successo? Eh, no, regà. Che hai fatto? Ma se premo R2 mi... Ah, sì, sei buggato, sei buggato, mi dispiace. Te la devi giocare tutta così, non puoi correre. Deve usci un attimo il pallone, non te preoccupare. Ah, battaci il pallone. Guarda che bergole che ti faccio, basta che entra. Guarda che bergole. Bergole mi hanno fatto fare il mio primo start senza palla. E a me era sparita H. Prova a buttarla fuori. Vabbè, fai go prima. Porco 2. Ecco, subito. È sparito, ragazzi, è fizzato. Eh, no, te l'ho detto, è randomico, è randomico. Beh, un bel gioco comunque. Oh, senza di te abbiamo fatto due go, eh. Mo se appena prendi il controllo la subimo forse è il problema di te. Vabbè, volevo vedere se eravate capaci di giocare anche senza di me. Oh no, ma siamo mega upgradeati rispetto all'altra cosa. Ecco qua. Guarda qui, sì, vabbè. Vabbè, ragazzi, ma è troppo facile. Mamma mia, Bislungo come l'ha vista. Vabbè, raga, vado un attimo nel calcio d'angolo, tanto non vi servo. Perché? Eh, siete troppo forti. Ah, ok. Ma Bislungo è un demone. Detto anche Gullit. Non è vero, non hai questo soprannome realmente. Sì, 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 non l'hai vista. Vabbè, nuova regola. Ronno può segnare solo se ne smarca tre. Un po' troppo. Eh, il Francesco Totti. T'è partito il Totti all'Olimpico con tipo Menezza che l'aliscia. Bravo, bravo. Mamma mia, vabbè. Corazzo il capitano. Ma questo è il capitano. L'ha presa il tipo sulla linea. Il capitano ha messo le corna a quella con cui aveva cornificato Ilari. Ma che stai a dire? No, che giocatore il capitano. È cornoception qua, è cornoception. Veramente? Te giuro. Ma con chi? Ma con chi? Maria Luisa Jacobelli, brother. Ma è famosa, la conosco. Cazzo, la chi fa? Non so, è un nome già sentito. Come fai a conoscerle tutte, 3 e 2? Eh, oh, frate. Ma puoi correre? Gabbo, 3 e 2 dovrebbe funzionarti, però. No, ma si scatta con R2, minchè. Correvo con R1, raga. Ma che stai a dire? Non giuro. Raga, stai bene. Grazie, è completamente in un altro pianeta. Frate, rovescio. È impossibile rovesciare. Fai gol, fai gol, fai gol di tacco. Si, di tacco. Combalo. Ma l'esterno da lì era difficile, però. Lascia stare. Raga, c'è uno in porta, non esiste il fuorigioco. Oddio. Oddio! Ma non è vero mai, eh. Gabbo, esenziosamente fa la Weekend League. Pagherei per vederlo fare tipo 8. E intanto devo aprire Ultimate Team. Già lì, nicchia. Vabbè, buttaci un 2000 euro se è a posto. Sì, certo. Poi ci sono tutti i pacchi quelli golosi. Là. Tre rossi, signori. C'è speranza per questi poveri stupidi. Allora ragazzi, il prossimo gol, il prossimo gol, soltanto in rovesciata. Dici, è troppo facile la partita? Sì, esatto, ti metto gli obiettivi nel video. Eccolo! Però dovresti prendere il pallone e non la faccia. Era Time at Verde, tra l'altro. No. Sei te, capitano Verdone? Eh, l'ho fatto uscire, ma... Da un po' di sciare. Che bidone! Contropiede e rovesciata. Oh, io, io! Calcio di livello. Ma com'è giallo? Come fa ad essere giallo? È perché non c'è blu e rigore. Ah, è vero. Gabbo, che cazzo premi R3 continuamente! Ha sbloccato la skill del tasto, lascialo fare. Lasciali vivere il sogno. Posso andare in porta? Lo fai? Ha spinto, ma ha spinto! Aia! Lo fai? Ok, lo fai. Va! È insegnabile. Vai al centro, vai al centro. Ce sto. Va bene? No! È impossibile. Così vicini, ma così lontani. Guarda di no! È passio! Forse un po' tumarza, lì. Bravo, perché mi fanno impazzire le uscite dei portieri a Kamikaze. Sei tu il capitano, eh, Dredo. Vai, Kri, vai, Kri, è tua, eh. Che l'hai. Fallo! Vai! Sì! La sblocca così, si può tornare a giocare normale. Cosa succede? Perché è zinco, Kri. Non lo so, non lo so. Rovesciato! Perché non ha rovesciato? Mi slungo! Perché la palla era alta letteralmente 20 centimetri. Come faceva? Frate, sommato! Sì! Sei un bel po', zio. Tutto calcolato, tutto calcolato. Tutto calcolato, tutto calcolato. Guarda bis. Guarda, è stato bis! Oddio! Non c'è il DINIS! Guarda, via, mi slungo! Sento solo l'audio, ma è come vederlo. La chiamata di Carti. Ho detto anche Predator, giusto, raga? Sì, sì, lui. Predator. Bene. Ma da adesso il film si chiamerà Carti versus... Versus... Alien. Versus l'Alien. Alien versus Carti. Alien versus Carti. È vero. Mi slungo! Sto andando a bit. Sfine, finite, con calma. Lascio subito un po' di gossip. Su che? Su Francesco Totti? Certo, che ne pensi? Dimmelo. Noemi Bocchi cancella le storie con Totti, poi parte per Miami. Tra i due esistono da tempo problemi. Ma c'è, è proprio una disfatta sta relazione. Il capitano non si sa che sta a fare. Comunque sono relazioni palesemente da dodicenni. Cioè è assurda questa cosa. Ma sì, ma sì, ma sì. Ma poi io lo posso dire, il capitano si scopa solo quelle dei 30 anni di meno. Maria Luisa Iacobelli, ma vediamo chi è. Madonna, che zine... No, vabbè, questo... No, ragazzi, cioè... Ma torniamo a noi. Ma torniamo. Adesso posso tornare, ragazzi. È tua, non hai mai sbagliato la palla. No, sempre. Un pazzo. Oddio. Sexy. Fuori da testa. Allora, guarda... Arco. Ma non si sa tre anni. C'è la bis lungo lì, però. Vieni la presa. È la bis. Bellino. Ma regà, è troppo lungo. Eh, si è dimenticato. Regà, ma non corro. Regà, ma questo qua, ma quanti anni c'ha? 45 quello pelato. Ma regà, ma sono due pelati uguali. No, Lando Norris per standing da men. No. Che ha fischiato? Eh, potrei averlo falciato. Stron. Era per salvare il salvabile. Ok. L'hai salvato, l'hai salvato. Ma voi ce la farete. Tranquillamente. Senza di mezzo. Bellissimo. Non ci posso, porco di... Credere, ragazzi. Easy, easy. Carti alto. Bello. Chiara la testa a spigolo. La passo. Ho sbagliato. Troppo indietro. Porco due, no, un altro. Piccolo errore, piccolo errore. Bello. Tanto altri 27 secondi. Eh, rimango indietro, se no qua è un problema. C'è Bislu. Stoppola con calma. Anche dietro, eh. Potevo fare così. Siete! Ma dove è passata? Otto, sette. Fuori gioco. Frate, era fuori gioco, era fuori gioco. Ecco, non serviva prendere tre secondi che rientravo, no? No, ma era fuori gioco palesemente. Peccato ben fatto, scusa. Guardate che ha preso. Bravo! 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 È sexy, è bello sexy, è bello sexy proprio. Bello lì nel pertugino. Tua, 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 bello lì. Vai, Gabbo. Mamma mia, ragazzo. Ah, frate. Eh, no. È tuo, Gabbo, sei tutto nelle tue mani, eh? Come controlla Bislungo. Che sicurezza che mi dai. Bella capoccia. Che cazzo di testa cubica che c'ho. Bis. Frate, come si muove? Gabbo. Zidane. Eh, però Bislungo sta perdendo un po' la sua attitudine a difendere. Che ci aiutava in passato. Si gode? Si gode? Poco due! Gioco meraviglioso, se posso. Straordinario, il migliore dell'anno. Il migliore dell'anno è già gocci. Come ci muoviamo! Bella, ragazzi. Che fintona di tiro. Esci via casa punta. Io me lo giuro, non è mai successo. Mamma mia, Charles, Leclerc. Bello, Bislungo. Mamma mia. Ok, là, ok, là. Non è vero. No, ma che fa? Il portiere è tuo. Via, 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 Gabbo, sta palla. Via, ragazzi. Eh, niente, non la vogliamo buttare più. Eh, raga, dove vai a entrare sto, 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 sta palla dove entrare? La partita è strana, posso? Sì, no, è un po' gommosa. No, ma, ma ce la facciamo, ma ce la facciamo. Gabbo, esci, esci, Gabbo. Esci, Gabbo. Eh, no, ecco. Easy, si recupera? Qual è il problema? Guarda, ma questo pelato è un mostro. Ma guarda qui che viene rimessa preso. È in modo autistico e basso. Guarda che culo. No, vabbè, regà. C'è la partita è, dai. Easy, si recupera. Ficri, fai gol. Easy. Dai, molto buono. Come se non fosse successo nulla. Fallo. Dai. Davo. Dai, 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 subito. Voglia, voglia. Come on, come on. Dieci, dieci, dieci. Dai, si stanno cagando sotto. Sì, te il do? Bello. Impossibile che la sbagli. Lo sai, infatti. Lo sai? Sì, te il do? Lo sai? Lo fai tu? La stava prendendo. La stava prendendo. Grazie, prego, scusa, ben fatto. 30 secondi ci abbiamo messo, eh. Dai, che ne facciamo ancora, ancora, ancora. Ma che piede di merda. Oddio, al volo, al volo. Oddio. Il gol dell'anno. Che comeback. Rimaniamoci, rimaniamoci. Che comeback in amato. Concentrati, concentrati. Non va, non va, non va, non va. Non è mai andato. Non è mai andato, Gabbo. Non è mai andato. È tua, è mia. Non posso non andare da nessuna parte. O chi è? Sì, allunghiamoci e chiamiamola in avanti. Chiamala in avanti, aspetta. Perfetto. Perché l'ha andata a me? Non l'ho chiamata, non l'ho chiamata. Non tutti in avanti. Bravissimi. Dai, 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 dai. Una tecnica un po' camicazze. Sì, non tutti. Uno in avanti, intendevo. Cioè, non tutti e quattro. Vamos. Eccoci qua, sempre noi. I Backstreet Boys. Ma secondo voi chi è che la prende la prima palla? Giastrono, che cazzo mi manda? Tutte, ovvio. Eh sì, bene. In un modo o nell'altro. Mi lagga un sacco. Va come va, va come va. Bellissimo. Bellissimo. Ma però questa palla accelera. Cioè, stiamo già sul sintetico. Ma che è? Sì, no, infatti, sembrava che non smettesse mai di andare veloce. Arco diazzi. Bravo, Kimura. Non male che anche a noi concesso un errore. Mi slungo che è più alto di questo. Ma che fa? Lo. Aspetta, è una palla. È una palla biglunga. La presa. Incredibile. Credici, 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 credici che sbagliano. Oh, credici che sbagliano. Ma non ci credo. No, regà. E poi, 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 poi. Ma Gabbo, dove cazzo è? Gabbo, tu cazzo sta difendendo. Stavo guardando l'azione. Ma sta difendendo la bandierina, Gabbo di square. Ma come stavi guardando l'azione? Stavo guardando l'azione e mi ero perso il mio personaggio. Era andato a fare in culo. Si recupera. Porta il furtivo. No, ancora, basta, basta. Mille. Gabbo. No, regà, ma che cosa sono? Eh, certo, io faccio la magia, è ovvio. Questo guida il motorino, sto sce... Sto bastardo. Ti hai sputato? Sì. L'ho fatto bene. Qua. No, si pare. No, frate, non si può. Impossibile sbagliarla, eh. Ragazzi. Ragazzi, non ho mai visto un gol della merda andare così lento per fargliela prendere al portiere. Eh, sta succedendo qualcosa qui, eh. Qua tocca fa un bel riappio di console, raga. Sta succedendo qualcosa, ragazzi. Ragazzi, ma com'è possibile che un gol della merda così facile sia stato interrotto dal portiere? Gliela prendi, gliela prendi. Non gliela prendiamo, ragazzi. Capito, sì, ma... Stavo subendo delle golle che non hanno senso. Se recupera. Minchia, quel cartellino blu che mi sta arrivando nel cervello, eh. No, tranquillo, non ti agitiamo. E me la recuperiamo. Guarda che passaggio fa questo. Scappa, Gabbo, scappagli dietro, Gabbo. Dai, regà. Beh, raga, ma è impossibile, dai. Cristo Dio, cioè... Sì. Bravo, tre rossi. Non lo puoi sbagliare. Cotto. Cristo Dio. Adesso si gira tutto lo script, ti fidi? Mamma mia, che bello. Ah, no, mamma... Dove tornare, però. Dove tornare, dovve tornare, dovve tornare. Gabbo, devi stare un po' più dietro, se no non difendiamo un cripto. Contropiede. Cri, 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 cri. Che due, eh. Ho paura, ho paura. No. Concedetemi un po' di paura. Ragazzi, ragazzi, non ha senso, non ha senso, vi giuro. Bravo, Gabbone. Oddio, elegante. C'è già? Dai, regà, era un passaggio, era un passaggio, l'ha lasciata lì. Porti, 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 3-2, porti, porti, 3-2. Oddio. Mamma mia, stiamo graziati qua, eh. Ragazzi, è un segnale, dobbiamo recuperarla, è un segnale questo. Ma che palle lente che tirano. Oh, pezzo di me. Questa è blu, attenzione. Blu è il time to shine, questo, eh. È tua. No, non è vero, te l'ha tolta da lì. Dai, 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 dai. Un minuto per il sogno. Eh, sono 15 secondi in meno con l'unità che fai gol. Fai gol per giù. Taglielo. Sì. Taglielo. Dai, 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 dai. Dai, dai, tra 10 secondi ancora in uno in meno. Full pressing, io gli marco sto tronzo. Full mano troppo, eh. Guarda che gli è entrato, eh. Ah, gli è entrato, eh. È comparso all'improvviso. Mi è entrato a me. Guarda come è l'ha presa, è incredibile. Ma come fai ad averla presa perfetta? Peggo il criccio. Peccato. Fanno melina? Non ci credo. Eh, 20 secondi di melina fanno. Bastardi. Vagliela a pigliare. Occhio là. Minchia. Eh, sì, sì, in qualche modo. Bravo, che l'hai spaccato. Dai, questo. Dai, che lo sapevo. Guarda che incredibile questo gioco di merda, oh. Costa il purti. Vabbè, dai, se l'hai buttata dentro da solo, però, regata. Ma che è? Sto tiltato. Che tiltata, ragazzi. Puttana Eva, oh. Vabbè, o non è che siamo invincibili, eh. Prima o posto. No, ma infatti, ma secondo me ci sta a far vedere anche i punti deboli della squadra più forte d'Europa. Siamo arrivati alla fine. Ovviamente, purtroppo non l'abbiamo persa, però vabbè, l'abbiamo fatta anche per i nostri avversari. Almeno riescono a capire che sono capaci a giocare. Io ringrazio i cavalieri dell'Apocalisse, Just Ron, Just Gabbo, Just Zano. Dovrebbe uscire, o è già uscito in realtà, un video sul canale di Ronna. E vi lascio però anche i canali degli altri, in modo tale da poterli vedere tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.